Buona domenica ragazzi, buona domenica, abbiamo rischiato fosse una domenica dal punto di vista calcistico, mamma mia, oggi ho il battesimo di mia figlia, ho detto mamma mia, poi il mio cognato interista l'avrei preso in giro, poi abbiamo vinto, e che liberazione ragazzi, vittoria fondamentale, tre punti pesantissimi, immaginate la cosa più pesante, ecco, moltiplicatela per tre, per come è arrivata, è una vittoria fondamentale. Iscrivetevi qui se l'avete ancora fatto, mi raccomando numerosissimi, super entusiasmo ragazzi, a più 5 sulla seconda squadra di Milano, lasciate un bel like e se vi va prendete la maglietta o la felpa di Milano su milanello.com, vi invito anche a scaricare gratuitamente l'app di numero 10 in paglio, la maglia del Milano e i due biglietti per Milano e Juventus. La maglietta ieri della live è stata vinta da Eugenio C. e quindi complimenti a lui, ma ne assegniamo anche altre questa, e due biglietti per Milano e Juve, che bello ragazzi. Poi i problemi infortuni, ci pensiamo perché ci pensiamo, però ieri, dopo anche il risultato prima di noi, non dovevamo perdere terreno dal Napoli, dovevamo allungare sulla seconda squadra di Milano, bene così. Mi sono scatenato nella live e oggi vi farò un video riassuntivo della mia live reaction con sali, scendi e sali, uno tsunami di emozioni davvero. Ragazzi comunque godiamoci questa domenica e scatenatevi con i like e con i commenti. Devo dire che la prestazione per la prima mezz'ora era stata molto buona, c'era mancato il gol, siamo stati un po' molli in alcune occasioni, poi i cambi, smantellata tutta la fascia destra, eccetera eccetera, poco tempo effettivo di gioco, è cambiato un po' il tutto. Però quando parti senza un paio di titolari, ne perdi altri due, poi anche il terzo, non guardo tanto la prestazione, guardo ai punti, e i punti sono pesantissimi. Arrivati così ti fanno capire che è una vittoria di grinta, di cuore, di rabbia, l'hai voluta prendere anche quando sembrava tutto finito. Ed è uno spettacolo ragazzi, e andiamo, e andiamo! Forza ragazzi! Allora le pagelle, Tatarusano, un'uscita alta, non l'ha presa nel primo tempo, poi però dopo ha parato, ha fatto una bella parata su Bairami a tu per tu, quando va via Tonali forse commentendo fallo, rimane lì, para, bene, sbaglia anche un po' Bairami. Sulla punizione doveva, secondo me, piazzare meglio la barriera, e doveva prenderla. Gli do complessivamente 6, sulla punizione secondo me doveva prenderla, è stato bravo comunque prima, gli do un 6, forza Tata. Dai, hai preso le misure ieri. Calabria si è fatto male purtroppo, secondo me aveva fatto un primo tempo comunque di intensità, finché era rimasto in campo 35 minuti, sovrapposizione di Salema, che si imbucata, si faceva vedere lui. Stavano facendo bene sulla fascia destra, gli do un 6, mezzo, peccato per l'infortunio. Al fressore, un grande in bocca al lupo, per rivederlo presto in campo. Kier ha fatto anche lui bene, ha speso il giallo su piazza, credo fosse lui, ci sta. Per il resto, ha stato i denti, anche lui poi era un po' faticato, si è fatto male pure a lui. Ci pensiamo poi, intanto comunque gli do un bel 6, mezzo. Mi è piaciuto molto Tomori, ragazzi. Tomori molto bene. L'unica volta che ha sbagliato è quando loro hanno colpito di testa, però lì aveva appena subito un pestone. Detto questo, sempre in anticipo su Satriano, ha dato anche una bella palla poi a Giroud quando l'ha messo davanti al portiere. Non vorrei sbagliarmi, ma la palla Krunic per l'imbeccata poi per Ballotouret la da lui. Mi è piaciuto molto, attento, preciso, grande attenzione, concentrazione di Don Bel 7. Ballotouret, ragazzi. Ieri nella mia live ho detto a un certo punto, segna Ballotouret. Non mi è affatto dispiaciuto. Al di là poi del gol, partiamo per la prestazione. Spesso si faceva vedere, si proponeva sulla fascia sinistra, spesso era solo. Non è Teornandez. Ma ha fatto una partita, secondo me, incoraggiante. Di fatto, quando poi rischia di fare rigore, bravo a tenere la palla, il braccio attaccato, fa un salvataggio. E poi fa il gol, partita. Si fa trovare lì, non è da tutti farsi trovare lì in quel momento. E fa un gol fondamentale, ragazzi. Sono contento, gli do un bel 7, che sia incoraggiante anche per le prossime. Davvero bene, bene, bene. Chapeau. Non ci credevo, mi tolgo il cappello e sono molto contento, davvero. Benass era fatto molto bene. Partiti di intensità, dinamismo, recupero palla, ripartenze. Gli ultimi 5-10 minuti, secondo me, ha rovinato un po' la prestazione con quel fallo lì. In precedenza si era fatto superare con troppo facilità da Piazza, che è entrato poi in aria. Il fallo su Bairami, secondo me, si poteva gestire diversamente. Anche dopo si è fatto superare un paio di volte. Gli do un 6,5. Poteva essere un voto più alto, ma gli ultimi 5-10 minuti ha fatto qualche pasticcio di troppo. Tonali. Ha provato qualche volta con qualche conclusione. Il destro alto. La punizione deviata con la palla poi di Cario. Bravissimo andare a prenderla. E poi, ragazzi, la rimessa. La rimessa. Vede Leao. È bravo, è lucida. Alla fine è bravo a vedere Leao e gli dà la palla. Voto 7 per Tonali, che ha fatto comunque un'ottima partita. Salemakers. È rimasto in campo poco, una mezz'oretta. Si stava proponendo bene tra le linee, movimenti, sovrapposizione. Ha sbagliato quella palla che ha ricevuto da buttare in rete, di buttare giù la porta lì. Un piatto debole e anche alato. Per il resto. Per il resto, poi ha provato con un altro destro respinto da Vicario. Gli do 6. Gli do 6. Peccato che si sia fatto male, visto che abbiamo fuori anche Messias. De Chetelare. Allora, De Chetelare è partito bene. Quando in un fazzoletto ne aveva due addosso, con una finta di corpo ne ha mandati fuori sull'esterno. Ha dato una palla in orizzontale per Leao, che bastava buttarla in rete. Metterla in rete. Se fa gol, lì diamo molto peso con la giocata. Che deve comunque meritare giocata. Poi andava a pressare, a recuperare palla. Ha fatto un tacco elegantissimo a smarcare Leao. Un sinistro poi deviato a posizione defilata. E poi anche lui un po' uscito di scena. Compressivamente deve tirare di più. Quando tocca palla, fa sempre cose importanti, deve tirare di più. Deve essere più concreto, più cattivo sotto porta. Gli do un 6. 6 più. Deve fare di più. Quando tocca palla però non fa male cose banali, ragazzi. Deve crescere sicuramente. Leao, allora, ha dato dalla destra una bella palla per Giroud. Si è mangiato quel gol centrale con Vicario, che comunque è stato bravo. Lo strappo con la palla poi per Salemakers, che ha sbagliato. L'esterno della rete appunto dalla destra. Poi, ragazzi, gli dicevo diamo palla a Rafa, perché quando tocca palla fa sempre qualcosa di importante. L'assist si propone, si fa vedere, intelligente. Sul fuorigioco non c'è, sulla rimessa non c'è il fuorigioco. Salta l'avversario dalla palla a Leao. Assist d'oro dalla palla a Rebic. Poi il gol, il gol, il sigillo, va, 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 tocco sotto, splendido. Sette e mezzo a Rafa, top player. Giocatore che ha fatto anche ieri un gol e un assist. Fondamentale, rinnoviamolo. Bravo Rafa. Giroud, provato di tacco, palla che è stata deviata in angolo. Bravo a credere su una palla che sembrava persa. Con Vicario poi a terra il cross per Leao, che di testa non ci arriva. Poi il calcio di punizione, la traversa, ha provato comunque a duellare. Andava a fare sponde, gli dò un bel 6,5-7. Perché la prestazione è sempre, lui c'è sempre la prestazione e gli ha mancato il gol. Chi è entrato? Krunic ha fatto fatica sulla destra, non è il suo ruolo. Però è andato a staccare sul colpo di testa assist a Ballotouré. Non so quanto. Lo devo rivedere, è saltato tantissimo. Per quell'assist gli do 6,5. Calo Lussai prima a destra, poi al centro. Rebic fa un gol ogni 20 palloni. Ogni 20 palloni toccati fa gol. Terzo gol. L'altro ieri ero contentissimo quando l'abbiamo convocato. Ho detto, sono contentissimo che stia bene a lungo. Ante devi restare bene a lungo. Ha fatto l'assist. Poi tra l'altro dopo a Leao nella reazione di ripartenza. Il gol si è fatto trovare lì. Ragazzi, determina Ante. Poi è andato a prendersi anche qualche fallo. 7. Ante cerca di stare bene per tutta la stagione. Giocatore forte. 7. Brahim ha dato vivacità. Qualche ripartenza. Ha provato anche su punizione. In un'occasione ha un po' addormito, però ha dato brio. 6 e mezzo. Dest 6. Pioli. Gli contesto con il seno del poi che Calabria, che era già un po' in dubbio perché è faticato, forse non doveva metterlo. Detto questo, i cambi azzeccati. 7 per Pioli. Anche perché ha dato lui la palla a Tonali. L'ha data subito la palla a Tonali. Rimessa. Leaurevic. Gol. Mamma mia. È stata una partita pazzesca. Ricapitolo. Vi do il mio MVP. Tata 6. Calabria 6 e mezzo. Kier 6 e mezzo. Tomori 7. Ballo 7. Benasser 6 e mezzo. Tonali 7. Salemacher 6. CDK 6. Leao 7 e mezzo. Giru 6 e mezzo 7. Kronic 6 e mezzo. Kalulu 6. Rebic 7. Brahim 6 e mezzo. Dest 6. Dico che siamo a più 5 sulla seconda squadra di Milano, ragazzi. Non è male. Partite così con tanti infortuni. Se le vinci e alla fine, quando sembrava tutto finito, andate a vedere la mia live reaction anche più tardi, valgono il triplo. Peccato per gli infortuni. Abbiamo perso ieri Messias al mattino. Abbiamo perso Salemakers. Abbiamo perso Calabria. Abbiamo perso Kier. Abbiamo fuori Teo che però forse recupera. E abbiamo fuori Megnanne. Magari mi dimentico qualcuno. Detto questo, poi ci pensiamo. Oggi ci godiamo questa vittoria. Oggi godiamoci questa vittoria. Il mio MVP. Vorrei darlo a Ballotouré. Un pizzico di Ballotouré, ma tanto di Leao. Perché ragazzi, anche ieri un gol è un assist. I suoi strappi, quando perde palla, è un giocatore immarcabile. Che deve rinnovare. Mi è piaciuto poi come ha giuito quando ha dato la palla a Leao. A Rebic, anche se non ha segnato lui, proprio era lì come uno di noi. Uno che ha il Milan nel cuore, uno che va rinnovato. Ragazzi, troppo bello. E andiamo. Sono troppo contento. È una bella, 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 bella domenica. Godiamocela. Siamo lì attaccati. Peccato per la sconfitta con il Napoli. Immeritata. Altrimenti saremmo lì in alto. Bisogna adesso guardare poco la prestazione e tanto i punti. Adesso un trittico. Chelsea, Juve, Chelsea. Importante. Poi arrivano sulla carta partite più facili. Ma partite facili non ce ne sono. E ieri, quando tutto sembrava finito, siamo andati a prenderci una vittoria con la grinta, con la rabbia, con il cuore. Con tante assenze. E per me questa è una vittoria che alla lunga, se finisce in una certa maniera, potremmo ricordarci. Grandi, grandi, grandi. Scaricate l'app di numero di S da questo link. Impaglio la maglia del Mina. Due biglietti per Mina-Juventus di settimana prossima. Iscrivetevi al nostro canale qui numerosissimi. Lasciate un bel like. Se volete la maglietta o la felpa di Milano, la trovate su milanello.com. Vi metto qui sotto il link. Forza Minogici più che male, ma ne ancora di più. Vi consiglio anche di vedere la live reaction di ieri. Ho fatto la live, la diretta. Succede di tutto. Da quando segnerebici in poi succede di tutto. Ma più tardi faccio un riassuntino. E lì potete vedere quanto sono impazzito. Come immagino anche voi. Forza Mina ragazzi. Un abbraccio a tutti e... Tre punti d'oro. D'oro, 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 d'oro. Ciao ragazzi, iscrivetevi.